e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua qualcuno ha piccato una tennetti perchè voglio fare un hide and seek che credo sia il tipo secondo o terzo che faccio direi di entrare anche se spammo sulla pecora 2 player wow quindi niente sono tornato a farli ad and seek perchè mi piacciono sono bellissimi ok allora envil goldor divento una crafting table vai intanto ce l'ho anche a livello 5 che c'è qua hanno fatto il nuovo una nuova cosa bello allora c'è un seek 19 hiders bello dove potrebbe stare una crafting table vicino a questa ok mi arrivano le notifiche ok c'ho questa qua ma no c'è qualcuno morto mi sa si si proprio qualcuno morto spammo la chat che bello che bello spammare 8 7 6 5 4 3 2 2 1 0 che ho fatto chiuso potion 27 27 26 basta le noto lo spam che c'è in chat e aspettiamo c'è anche la sic killer killer no vabbè buonità bisogna trovare delle altre crafting table altre di me un altro come me questo suono bellissimo so che qua mi sembra che non c'era non c'era invece qua sono morto io danger ha una evil c'è il gold ore non era lui vediamo che ci si ricarica l'ass che stai facendo ragazzi per poi ucciderlo dove sono oh non trovo nessuno andiamo in un altro palazzo c'è un'altra costruzione anche la birra ce l'ho trovata ce l'ho già passata non c'è un'altra costruzione a me non c'è un altro palazzo no Allora la mia strada non si sta ricaricando Più al massimo Ecco, magari Come non detto Eh, mi sa che Maronna, che è sto temporale? Ecco Seekers are winners Abbiamo vinto Yeee Cacchio questa cosa Scorreggiamola Abbiamo vinto Si Adesso ne facciamo Un altro Spammiamo sulla pecora Beee Ok, basta fare un scemo Ah Mi sa che questo è l'ultimo Ah Votiamo anche la mappa Eh Votiamo la Quale Ok, è importante Mi sa la glitch Tiene pulita la chat Ah Nel senso di scrivere cose brutte Nel senso di non spammare Credo Tutte e due C'è se office In un ufficio Una libreria Perché anche leggere il nome della mappa Che potrebbe Anticipare cosa c'è nella mappa È utile per scegliere blocco In un ufficio che ci sono? Le librerie Ma questo Potremmo mettere Un quattro Di me Di pistole Potremmo Potremmo mettersela Di me Un pistole Si può mettere qua Io sono Una Cutting table No Che sono Una libreria Proprio Andiamo Una libreria Ok Buongiorno Mi ha felato il parkour Io no Potrei mettermi Qui Faccio Sembra anche Così Non sembra Che ci sia nessuno Né che ci sono io qua Né che c'è un altro tizio qua Adesso Bisogna aspettare Ma è qua No 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 Venga È stato trovato su No Un po' su Margo Andare a su Un po' su Subito Eh si Flowerpot Domani Li trovo No Non c'è niente Qui No Qui La libreria No Mi devo sprechare Mi devo ricordare Perché Sennò Qua Dove siete Dove siete Qua mi ricordo Che non c'era Uno Dove siete Oh no Oh Un frau Un frau Un frau Un frau Un frau Ucciso Yeee Era stata di linea Quella non è che mi fa Molto danno Un frau Non ha più la porta Che c'è Mi aiuto io Oh L'avevo to Io Oh Sennò Che no Sennò 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 Che Puoi Vado a Prendermi Però L'abbiamo Ucciso Oh L'emau L'emau No Che è l'emau Io ti reporto Report De Devo scrivere la mano De Babouche Babouche Chillaura No No Non esiste il comando report Ah Ehm Vabbè Noi non usiamo il comando report Sono Bravissima nel percor Per non dire altre parole C'è ancora una libreria Una foglia Una carta In tutto Un pistone Qua Oh Non aspettavo Quattro Flowerpot Uno qua No Se era Quello Era Non era Un Player Non bisogna Trovare Le Handle No Non bisogna Trovare Ho Vinto Gli Hiders Mi sa Che abbiamo Perso Raga Mi sa Proprio Di Si Mi sa Rata La Spada Dieci Nove Occe Cinque Quattro Tre Due Uno Abbiamo Perso Hiders Are The Win Vabbè Posso Condividere Il gioco Su twitter No Grazie Ho Giocato Allie Del Sick Ho Perso Trovato Vabbè Direi Che Per questo video è tutto Se vi è piaciuto il video Mettere mi piace Iscrivervi Aggiungendo la campanellina Seguite su twitter Per avere aggiunti esclusivi E per sapere cose prima Su instagram Per vedere ogni tanto qualche backstage E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao